Questo è un palazzo di pietra antica che stanno ristrutturando. Allora, in pezzi vedi la pietra e in pezzi vedi che hanno messo griglie nuove e dipinto la pietra in colori diversi senza mantenere il colore della pietra perché non capiscono e non sanno, non valorizzano il materiale vecchio perché non li dà la possibilità di ristrutturare in modo moderno. Ma non è vero perché è possibile. Qui si vedono nei piccoli negozi che sono spazi molto antichi perché qui c'erano piccoli negozi di cose, oggetti tradizionali e adesso ci sono per esempio caffè di internet. O ci sono posti dove, negozi di dolci, di tè, o ci sono i sarti. Ma questo è un altro palazzo vecchio, ma qui non hanno ristrutturato molto e non sta neanche crollando, perciò è ancora abbastanza intatto. e quando comincia a crollare la gente sostituisce la pietra con cimento senza neanche pensare perché poi non ci sono comunque le leggi che dicono che non puoi cambiare e sostituire la pietra con cimento. Questo è un vecchio tempio del Dio Giove e che è molto frequentato, è uno dei tanti tanti templi antichi di questa città che fortunatamente vengono conservati.